ciao sono alessia di alessia scrap and craft e casa organizzata se non vuoi perdere neanche uno dei miei video ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto in modo appunto da ricevere le notifiche appena esce qualcosa di nuovo ce ne sono spesso ne sto facendo molti e quindi seguimi ciao ciao buongiorno a tutti eccomi qui con la presentazione del nuovo video dedicato ai miei abbonati super fan e supporter ecco qui che oggi vediamo questi segnalibri fatti con la lavorazione arlecchino eccoli qua il davanti e il dietro che sono belli entrambi questa lavorazione arlecchino come vedete è particolare perché sembra proprio il costume del della maschera di arlecchino che è fatta tutta losanghe bordate di di colore contrastante si può fare ovviamente con qualsiasi colore e con qualsiasi tipo di filato io ho fatto questi segnalibri con il cotone cable numero 5 eccolo qua e quindi con l'uncinetto abbastanza fine però si può fare anche per qualunque tipo di progetto anche con filati diversi qui lo vedete con un acrilico con un acrilico e solo due colori qui invece avevo usato più colori ma comunque si può variare come si vuole perché ogni giro praticamente è a sé stante quindi ogni volta si taglia al filo volendosi si può mantenere il filo i vari colori però io preferisco tagliare il filo ad ogni giro poi potete scegliere se mantenervi i fili dei vari colori oppure no è una scelta personale eccolo qua molto bella e molto semplice questa lavorazione andiamo a vedere come farla e come fare il segnalibri quindi lo vedrete per gli iscritti lo iscritti lo vedranno nel video successivo nel video dedicato e noi ci lasciamo qui e se volete imparare questa lavorazione sapete che c'è l'abbonamento ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao